Ciao, io sono Daniel, noto anche come caro Daniel Im, online e su più social media piattaforme di rete. Per quelli di voi che già mi conosci, sai che ho stato attivamente impegnato nell'essere strategic marketing consultant, rainmaker e digital technology architect. Per quelli di voi che non conoscono ancora me. Ciao, io sono Daniel. E come una persona molto creativa con un cuore per gli imprenditori internazionali e per il futuro dell'istruzione, vorrei invitarvi a contribuire a sostenere quello che sto facendo. Sui social media e nella MCE. Punto la comunità di imprenditori internazionali di MemberCruz. Sempre sto lavorando su qualcosa di fresco e vorrei condividerlo con voi e la mia cara comunità di Daniel Im. Nel prossimo capitolo della mia vita, mi piacerebbe spendere, nella produzione di corsi online, tra cui grafica, video, podcast ed ebooks per aspiranti imprenditori e per tutta la vita agli studenti che desiderano imparare, collaborare, direte e avere successo. Oggi, ho un annuncio speciale da fare, come ci stiamo avvicinando per il 2018, Natale e Capodanno 2019, con ogni giorno che passa. Sono stato pensare profondamente sulla direzione del caro Daniel Im, il MCE e il mondo. E da allora hanno deciso, ho bisogno di fare un grande cambiamento nel modo di che fare le cose nel 2019. Permettetemi di dirvi di più su di esso ora. Come un moderno creatore di contenuti originali, come e-books, podcast, video e corsi online. Potete immaginare, qualcuno come me, avrebbe seriamente bisogno di un sacco di tempo e risorse al fine di produrre tutti questi pezzi incredibili di contenuto. Per non parlare di marketing e project management. Naturalmente, non sono solo io, da sola, ho una piccola squadra, lavorando insieme con me su questo pure. Mentre, con tutto il cuore piace fare quello che ho lavorato su. E prevede di continuare a fare, perché mi piacerebbe niente di più per rendere molto più eccellente e contenuti anche gratuiti. Il fatto è, abbiamo anche bisogno di guadagnarsi da vivere. Pertanto, abbiamo deciso di girare a voi. Nostri fan, seguaci e sostenitori per aiutarci a rendere questo una realtà. Credo che abbiamo trovato una soluzione. Si chiama Patreon. Ora potrebbe pensare. Sono interessati ma che chiede di te. Come posso aiutare? Permettetemi di presentarvi Patreon.